Allora, siamo con mister Malucchi nel Trebisaggio. Allora mister, una partita che ha visto il Trebisaggio andare in vantaggio, ma poi cosa è successo? Ah niente, stavamo gestendo abbastanza bene l'inizio della gara, tanto per che eravamo andati in vantaggio meritatamente, poi purtroppo abbiamo subito quel gol diciamo un po' in modo, diciamo su una carambola, anche se siamo stati un po' ingenui in quell'occasione. Stavamo essere un po' più determinati magari nell'uscire con la palla, però purtroppo in questa carambola il pallone è finito nei piedi di Monteiro, che poi è stato bravo a incrociare il tiro, a metterla dentro e di conseguenza a rimettere la partita diciamo sui binari giusti e dell'equilibrio. E poi niente, il secondo tempo abbiamo iniziato diciamo come nel primo, però purtroppo sempre e comunque su un'altra palla sbagliata in uscita e lì di conseguenza il giocatore Mazzei, se non sbaglio, ha recuperato palla e si è involato e anche lì lui è stato bravissimo a mettere la palla al pallo opposto. Poi in un stesso tempo abbiamo provato a rimettere la gara sull'equilibrio, però abbiamo trovato una buona luzzese che si è difesa abbastanza bene, ci ha concesso poco, anche se abbiamo avuto qualche situazione che potevamo sfruttarla meglio. Magari ci contavamo che alla fine il risultato di pareggio forse era quello più giusto, però complimenti e onore alla luzzese e speriamo di riprendere questa marcia già da domenica prossima. Comunque in classifica si muove poco, voi siete sempre a 19 punti, ambite chiaramente ai play-off e comunque adesso che si riapriranno le liste cosa il Tribisacce farà? Ci saranno eco-novità di mercato o comunque si lascia questo gruppo, questa cosa che comunque ha dimostrato di avere i numeri per poter sicuramente anche ambire, perché no, ai play-off? Guardi, la ringrazio per il complimento, per i play-off, però noi abbiamo sempre dichiarato sin dall'inizio di centrare questa salvezza il prima possibile, il nostro obiettivo è arrivare il prima possibile ai 40 punti che è la zona tranquilla e quindi il nostro obiettivo primario, principale è questo. Poi è chiaro che i ragazzi ad oggi stanno dimostrando di valere tutti i punti che hanno in classifica, ciò non toglie che la classifica è molto corta, quindi bisogna stare attenti pure dietro perché alla fine perdere due o tre partite si potrebbe risucchiare nella zona bassa, quindi non ci facciamo illusioni, pensiamo partita per partita e soprattutto cerchiamo a rimanere con i piedi per terra. Non a caso, per quanto c'è nel mercato invece, le dico in anteprima che a quanto pare difficilmente sarà fatto qualche innesto, anche perché noi c'eravamo previsti un budget, lo stiamo cercando di rispettare e nello stesso tempo dovremmo vedere eventualmente solo per una questione numerica. Grazie, buongiorno. Ciao, ciao. Ciao, carissimi. Ciao.